Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, insieme a me il mio fratello David che è con me in questo momento e quindi facciamo questo unboxing di WNM, ancora una volta un pacco misterioso, grazie ragazzi di TZSIM PROJECT ancora una volta per avermi dato fiducia, avermi mandato questo pacco. Allora, Davide, fai finta che... Ecco, fa finta, bravo. Oh, siamo riusciti! Ah, questi messaggini bellissimi, ragazzi. Quindi apriamo e cosa scopriamo dentro, ragazzi? Un Panzerfaust con silenziatore. No ragazzi, dai, è un cambio sequenziale bellissimo, massiccio. Thor, figlio di Kmero. Ma com'era? P-Dor, figlio di... P-Dor, figlio di Kmero della tribù di Thor, della terra desolata del... E' l'or! Allora, ragazzi, cambio sequenziale WNM, ragazzi, con... Con... Ve lo dico subito. Intanto, un feeling così pazzesco. Il rumore è fantastico. Allora, si presenta con un corpo in alluminio veramente molto massiccio che conferisce questa sicurezza che dovrebbe dare un cambio in cui, sai, con la foga vai di passi ste marce sequenziali. Abbiamo una levetta per mettere a folle, ragazzi, questo è molto, molto figo. La possibilità di poter personalizzare il vostro pomello, anche se non è tanto standard. È abbastanza grosso, quindi non so se... Adesso vi faccio vedere. Sembra veramente il silenziatore di un fucile. Ecco qua. È abbastanza grosso, quindi... Però, sì, si trovano, eh. Non sono... Non è standard, però... Si trovano, quindi uno qua è che personalizzarlo. C'è la possibilità di poter regolare la resistenza della cambiata con questa vite qui insieme a una chiave esagonale che vi viene fornita insieme a un cavo da 97 metri USB perché hanno sempre paura che mettiamo pc lontanissimi. Però è bene avere comunque un po' più di prolunga. Poi abbiamo un sacco di viti per il fissaggio perché ci sono 10 fori a vite sotto per avere la possibilità di poter personalizzare in base anche al supporto che avete per il vostro cambio. Ovviamente è in alluminio anodizzato, il peso è relativamente contenuto. Ci sono due prese USB Type-C, uno per il collegamento al vostro wc e l'altro per aggiornamento software futuri. Un pulsante DFU in modalità appunto di aggiornamento firmware e il tasto reset. Poi shifter bracket ragazzi e poi abbiamo delle molle mollettine per dentro che il cambio è nel caso in cui si dovesse rovinare. Cioè si smonta, sono sei viti qua sempre a brugola. Viti apparenti sempre in marchio WNM poi alla fine. Ok, in questa volta però l'hanno messo di colore scuro quindi bravi. Mi hanno ascoltato WN Bravi. Quindi si presenta molto bene e presumo che questo si illumini WNM proprio dalla vostra parte vedete sto marchio W come vittoria. No, WNM. Quindi ragazzi per questo unboxing è tutto. Grazie al mitico David mio fratello per avermi dato una mano e assistenza in questo unboxing. Adesso montiamo il tutto. Quindi ragazzi rimanete sintonizzati. Noi ci vediamo prestissimo. Ovviamente lasciate un commento, un pollice in su se questo Panzerfaust vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale. Da Fabrice e Davide è tutto. Un abbraccio. Ciao. Ciao ragazzi. Noi ci vediamo.